L'annuncio è stato pubblicato sui principali quotidiani. Il Cinema Metropolitan di Via Chiaia è in vendita per 2,5 milioni di euro più IVA. Questa la base dell'invito a presentare offerte da cui parte Banca Intesa San Paolo, proprietaria dei 6.700 metri quadri di gallerie sotto Palazzo Cellammare, da 70 anni sede dello storico cinema. Un tempo la sala più capiente d'Italia, poi trasformata nelle attuali sette sale. La trattativa è seguita da una società immobiliare con sede a Milano e le offerte andranno presentate entro il 15 maggio ad uno studio notarile del capologo Lombardo. Nell'annuncio si fa riferimento al vincolo di destinazione culturale con la specifica delle sale cinematografiche e istruttoria già avviata dagli uffici della soprintendenza di Napoli e dal MIC, dopo la proposta di istituzione del vincolo di relazione lanciata dal ministro Gennaro Sangiuliano per salvare la sala storica e il presidio culturale di Chiaia da una possibile trasformazione in garage, discoteche e sale bingo. Con il prezzo di partenza fissato a 2 milioni e mezzo però si allontana l'ipotesi di una continuità con l'attuale gestione di Giuseppe Caccavale e Nicola Grispello che alla banca avevano offerto 1,8 milioni di euro. Assieme al ministro Sangiuliano per il Metropolitan c'è stato un impegno in prima fila del sindaco Gaetano Manfredi con un appello di artisti, imprenditori e cittadini seguito da un flash mob nelle scorse settimane.